musica grazie babbo quanti regali grazie mille sei stato bravo anche quest'anno te li sei meritato ma babbo cos'è questo regalo così grande? posso aprirlo? ma certo aprilo, aprilo pure nooo la champions la champions la champions l'aspettavo da vent'anni babbo grazie la suonavo tutte le notti babbo grazie grazie e no a maggio forse ma come a maggio anche l'anno scorso mi hai detto a maggio poi non me l'hai data anche tre anni fa mi hai detto a maggio aspettato fino a maggio e poi non me l'hai data ma che palle però è sempre così dammela dai dammela dai dammela 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 dammelo dai dai dammelo dammelo dai a maggio forse ma dai sono trent'anni con sta storia ogni anno è così dai dammelo 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 me lo voglio nessuno mi ha fatto dei regali ma il buon natale non è neanche arrivato buon natale benedenti grazie mille no un punto non ci posso credere nessuno mi ha fatto dei regali sei l'unico che ha pensato a me ti voglio bene grazie mille spero ti sia piaciuta la maglietta che ti ho regalato grazie mille grazie non so come ringraziarti non so se vuoi fermarti a pranzo mi farà di piacere non ho molto però no grazie guarda devo andare da verona devo portare i regali anche lui sai a lui ho regalato tre punti che cuore d'oro che hai pensi sempre più bisognosi auguri a tutti a buon natale a buon natale a buon natale a buon natale discorso 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 shhh erano anni che non vivevamo un natale così dopo anni di sacrifici natali bui finalmente un natale quasi come ai vecchi tempi auguri auguri a tutti auguri viva Inter ma aspettavate qualcuno avanti aperto tour ma proprio oggi erano dieci mesi che non ti facevi vedere potato o lasagna nooo ma rovinato il natale sto qua ma rovinato il natale ahahah gigio dirai che così può passare no? Dottor Ragona che cosa vuole ancora? dottor Ragona Babo svegliati lui e Zizo dalla RUM non fare violenza psicologica con lui è lui il portiere più forte di sua ruolo tira fuori altri regali sino io ho già contratto pronto con la Befana eh vabbè va bene Daniele c'è l'ultimo regalo che mi hai chiesto grazie papo grazie Daniele ti piacciono Daniele ancora? Andiamo avanti con il Monopoli Marco è arrivato Babbo Natale Buon Natale E voi mettete like al video Seguite gli Otavol su Youtube Iscrivetevi al loro canale Se no carbone per tutti Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale